L'esercito marciava per raggiungere la frontiera e farci un nemico la maniera. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera e farci un nemico la maniera. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera e farci un nemico la maniera. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera e farci un nemico la maniera. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera e farci un nemico la maniera. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera e farci un nemico la maniera. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera e farci un nemico la maniera.